La vostra giornata qui niente, solo mangiare, dormire, questo anche per l'educazione non è così facile. È un'integrazione difficile anche tra di loro, non fost'altro che per la lingua diversa che parlano e per i paesi altrettanto diversi culturalmente da cui arrivano. Nel centro di accoglienza di Campo Reale ad Ariano ci sono 37 profughi, solo qualcuno di loro ha imparato poche frasi di italiano. Lui è Lamine e viene dal Gambia. Gli abbiamo chiesto come trascorre la giornata ad Ariano. Per passare il tempo, ci ha detto, pratichiamo sport e poi abbiamo un buon insegnante di italiano che viene due o tre volte alla settimana. Ci sentiamo così felici qui. La mia speranza è proprio quella di vivere ad Ariano Irpino. Quando gli abbiamo chiesto come sono le condizioni di vita nel centro, la Mincia ha risposto che sono buone e la gente del posto è molto ospitale. Attimi di incertezza invece nelle espressioni di quest'altro ragazzo. Non voglio parlare, ci ha detto. Diciamo che le condizioni sono buone. Per quest'altro giovane del Bangladesh, l'Italia è la metà finale. Non intende spostarsi una volta ottenuti i documenti e spera di riuscire a portare in Italia anche la sua famiglia. Gli abbiamo chiesto cosa pensa del ricorso alle tendopoli per l'accoglienza dei profughi. Ci ha risposto che le persone che scappano dai loro paesi lo fanno per problemi seri e dunque in qualsiasi modo l'accoglienza è un'opportunità che non va negata. A chi ci accusa di oziare ed essere retribuiti rispondiamo che non è vero. Non ci viene assegnato nessun compito, ci piacerebbe lavorare. Alcuni di noi lo fanno nei campi, noi vogliamo soltanto lavorare.